C'è un protocollo d'intesa tra il Centro Antiviolenza Donatella Tellini, siglato dalla Presidente Silvia Frezza, e la Segreteria del SILF, il Sindacato Italiano Finanzieri, uno scritto che non rimarrà sulla carta ma che è volto a tutelare le donne vittime di violenza proprio quando ci si avvicina il 25 novembre. Un progetto che vuole offrire strumenti concreti, una necessità che si acuita dopo il caso rimbalzato sulle cronache nazionali di una giovane allieva della Scuola della Finanza dell'Aquila. La necessità è anche tutelare le donne in divisa. Parla a tal proposito il legale del Centro Antiviolenza e anche il consigliere comunale dell'Aquila Coraggiosa, Simona Giannangeli. Anche questo protocollo che appunto è stato siglato dal Centro Antiviolenza, sottoscritto dalla nostra Presidente Silvia Frezza, è un ulteriore strumento che va a rafforzare quella pratica di contrasto della violenza maschile che sul territorio aquilano ormai il Centro Antiviolenza porta avanti da più di 17 anni. Sicuramente il caso della giovane finanziera che aveva riferito di aver subito abusi e molestie è stato un caso significativo che ha posto ancora una volta l'accento su questi mondi ancora molto maschili dove le presenze femminili evidentemente scontano ancora il fatto di essere a diretto contatto con uomini che poi insomma decidono di agire come ritengono. Quindi questo protocollo diventa un altro strumento in quell'ampio ventaglio di strumenti che ormai questo territorio si è dato per contrastare nella maniera più efficace un fenomeno che, lo sappiamo, non accenna a diminuire. E a proposito di tutte le donne, sta ricevendo tantissimi attestati di sima e solidarietà. La sindaca di Cagnano, Iside Di Martino, dopo le scritte sessiste offensive comparse in una frazione del suo comune. Un episodio simile si era registrato nel 2022, sempre contro di lei. Già la Di Martino aveva presentato denuncia, poi quest'ennesimo episodio per il quale sicuramente si aprirà un fascicolo d'ufficio e nel mezzo anche tante offese su Facebook. Conosco personalmente la sindaca Iside Di Martino e la mia solidarietà l'ho voluta esprimere in quanto donna, in quanto capogruppo dell'Aquila Coraggiosa in Consiglio Comunale, in quanto donna che conosce e sa bene quanto si possa essere attaccate per il proprio ruolo politico inseguendo il solito tono scontato sottoculturale dai profili sessisti. Purtroppo anche questo è un altro risvolto della cultura patriarcale e misogina nella quale ancora viviamo.